Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video sul mio canale, video del giorno dopo di Lazio Inter, terminato sul punteggio di 2-1 per la Lazio. Io non voglio alterarmi più di tanto, perché già il fatto l'avrete capito, no? Che la live reaction ve l'ho messa oggi e non subito, quasi dopo un'ora la partita come faccio di solito. Perché io ieri sera avevo un'incazzatura addosso che voi non potevate capire, non ho avuto proprio voglia di mettermi a farla ieri sera, l'ho fatta stamattina mentre andavo a scuola e ve l'ho caricata oggi, mentre tornavo a casa. Per cui se ancora non l'avete vista andatela a guardare. Faccio questo video ora che, diciamo, mi sono un po' placato, visto che ieri sera avevo proprio dentro un nervoso inimmaginabile, avevo un'incazzatura addosso inimmaginabile. Ma non tanto per il risultato, perché chi è che non aveva messo in conto il fatto che potessimo perdere con la Lazio? Ha perso la Juventus con la Lazio, era possibile che magari potevamo perdere anche noi, ma dopo il primo tempo che finisce 1-0 per noi, io non mi aspetto che l'Inter possa andare a perdere. Mi aspetto una partita in cui l'Inter possa gestire il secondo tempo, no? E invece no, e invece no. Non abbiamo calcolato che è da quasi un mese che noi giochiamo a portavuoto. Noi stiamo giocando senza portiere. E io adesso voglio fare una critica alla società, che comunque è da ringraziare per il lavoro che ha fatto quest'estate, per il lavoro che ha fatto a gennaio, ma... Poi ovviamente critica non va solo alla società, perché in primis è ovvio che è della società la colpa, perché chi poteva omettere come secondo portiere? La colpa della società appunto è quella di non avere un secondo portiere. E io non capisco ad oggi perché Viviano non è stato tesserato. Era svincolato, non ti costava nulla prenderlo. Lo prendevi, facevi fare ste cazzo di due partite qua, con Napoli e con la Lazio e probabilmente anche giovedì, che deve venire con Ludo Goretz. E poi basta, poi finiva in panchina. Ma non giocavamo con Padelli, perché Padelli è inutile, non sa stare in porta. E io adesso... Mi sto già incazzando, incredibile. Non riesco a fare un video calmo dopo la partita di Iessia. Non riesco a stare calmo, è assurdo. Veramente. Cioè io Padelli capisco il fatto che non gioca mai, è tantissimo che non gioca, però... Cioè io non penso che in allenamento tu fai un allenamento diverso da quello che fa Andanovic. Siete tre portieri, tu Berni Andanovic, penso che l'allenamento dei portieri sia uguale per tutti e tre. Per cui non mi capacito come tu non riesca a chiamare una palla, prenderla e dire mia, urlarla. Non me lo capacito, perché lo insegnano tutti i portieri da quando si gioca a calcio. Dal primo giorno che un portiere gioca a calcio, gli insegnano che deve urlare mia quando la palla esce. Ed è alta quando deve andarla a prendere. Invece no, tu cosa fai? Ti contrasti con scrignare e poi è successo qualche successo. Poi veniamo al rigore. Non c'è stata polemica e tutto, non voglio attaccarmi a nulla, però io a oggi, continuando a rivedere quel contrasto lì tra De Vrij e Immobile, continuo ad avere forti dubbi su quel calcio di rigore. Io continuo ad avere dubbi su quel rigore lì. Perché la spinta di De Vrij è veramente lieve, è veramente lieve e Immobile fa di tutto per cadere. Non vedo neanche agganci tra le gambe e sgambetti da parte di De Vrij. Io la spinta clamorosa di De Vrij ancora a oggi non la vedo. Ancora non c'è un replay che mi possa far dire, a cavolo sì mi sto sbagliando, quel rigore netto. Io ad oggi con tutti i replay che ho visto, da qualsiasi angolazione, la spinta netta di De Vrij non la vedo. Ancora oggi non la vedo. Per cui, ho già anche il dente avvelenato per questo rigore qua. Perché secondo me è dubbio questo rigore. E ovviamente è stato concesso. Veniamo al secondo gol preso da noi. Anche lì, va bene, mischione in aria, tutto quello che vuoi. Ma la palla ti è passata a mezzo centimetro, si è andato giù con la velocità di un bradipo si è andato giù a prendere quella palla. Non era angolata, era centrale. Cioè io capisco tutto, ma magari è difficile, magari per noi che siamo da casa è più facile dire certe cose. Magari certa gente, i giratori in campo non riescono a percepirlo. Però secondo me, tu quando sei lì, per la posizione in cui era messo col corpo, perché comunque la visuale di Padelli vedeva bene o male come Mininkovic fosse messo col corpo. Per forza ti devi aspettare un tiro sul secondo palo, da lì che poi sul secondo palo era centrale il tiro. Neanche fosse tanto angolato sotto l'incrocio o perfetta nell'angolino, era quasi centrale. Padelli cosa fa? Va giù a rallentatore. Però sul secondo gol diciamo che si può leggermente perdonare, perché comunque non era proprio facile, perché è il mischione in mezzo all'area. Sappiamo che i portieri fanno fatica a vedere certe cose, va bene. E' tutto. E questa è principalmente la causa, secondo me, per la quale abbiamo perso la partita. Il fatto che non avessimo avuto un portiere decente in porta. Poi arriva le colpe, purtroppo, del nostro mister. Perché ragazzi, abbiamo capito che dobbiamo sostenere la squadra, il mister e tutto, però come il mister si prende le lodi da parte nostra, si prende anche le ingiuri da parte nostra. Perché ieri sera, o meglio ieri sera, da quando è arrivato io non posso concepire un giocatore come Christian Eriksen in panchina e vederlo entrare solo a dieci minuti dalla fine. Non lo riesco a concepire. E poi per chi? Per Brozovic. Ma piuttosto togli Vesino. Toglimi Varella. Perché devi togliere Brozovic? Che in mezzo al campo era l'unico che sapeva far girare il pallone. L'unico che è capace di, bene o male, di giocare coi piedi. Mettili insieme questi due qua. Qualcosa magari esce. Invece no, togli Brozovic, mette Eriksen, che ad oggi ancora non capisco come possa non essere titolare in questa squadra. Sono stati fatti sforzi per prendere a gennaio, ancora non è titolare. Io non capisco, Eriksen deve essere titolare perché è un giocatore, è un fuoriclasse assoluto, non può stare in panchina uno come Eriksen. Non può, perché è entrato, ha creato più lui che gente che entra e magari non fa nulla. Ha creato due occasioni da gol, da gol, in dieci minuti, in cinque minuti. Perché la prima nasce da un suo tiro da fuoriare e poi viene il gol di Lautaro annullato giustamente per fuorigioco. La seconda occasione è quel passaggio bellissimo sotto le gambe di esterno per Lukaku. Anche lì si è immolato a Cerbi, che ragazzi a Cerbi veramente ha fatto una partita della madonna. Sembrava Sergio Ramos e Van Dijk fusi messi insieme ieri sera a Cerbi, non lo so. Boh, veramente ho un'incazzatura addosso che non potete capire perché era una partita che secondo me ce la potevamo portare a casa. Bastava gestirla un attimo e invece no, invece no. Per pecche nostre, soprattutto in primis, e poi anche quel rigoretto dubbio, perché io continuo ad avere dubbi, purtroppo abbiamo perso la partita e ora siamo di nuovo a meno tre dai Gobbi, a meno uno dalla Lazio. Che in questo momento, ragazzi, voglio fare un'amplicitazione. Secondo me la Lazio è più favorita rispetto a noi per la vittoria dello Scudetto. Perché io ieri sera ho proprio visto la voglia e la cattiveria da parte dei giocatori della Lazio di vincere la partita. Mentre noi nel secondo tempo, Mosci, anche abbiamo preso il gol nel 2-1, Mosci. Ed è da un po' di partite che io vedo questa flemma nei nostri giocatori. Questa poca voglia di arrivare al risultato, che secondo me non è poca voglia, ma è stanchezza, secondo me, da parte di questi giocatori. Perché arriva questo periodo dell'anno che l'Inter si stancano i giocatori nostri, non lo so. Il carico di lavoro magari è troppo pesante, io non lo so, non riesco a capirlo. Secondo me è anche questo, però ovvio che la cattiveria gli ultimamente sta mancando. Nell'ultimo mese la cattiveria sta mancando. Lautaro, ieri sera, irriconoscibile. Poi magari su Lautaro ci farò un video a parte. È tormentato dalle voci di mercato, si parla di Barcellona, di Real Madrid. Ieri sera Lautaro ha fatto schifo, ragazzi, ha fatto veramente schifo. Non è mai riuscito a essere incisivo come ci ha abituati nella prima parte di stagione. Lukaku, secondo me, ieri sera, dopo Brozzi, è il migliore in campo. Nonostante non abbia segnato, non abbia fatto assis, però comunque ieri sera Lukaku ha giocato veramente bene. Secondo me è il migliore in campo dopo Brozzi, che è sempre il migliore in campo nell'Inter, Brozzi. Nulla, ragazzi. Fa male oggi aver perso sta partita, ma comunque c'è ancora tanta strada. Adesso arrivano le partite importanti, perché giovedì abbiamo l'andata con Ludo Goretz. Non voglio neanche dire nulla sull'andata con Ludo Goretz. Cerchiamo subito di chiuderla, subito, la pratica di questi ottavi di Europa League. Chiudiamoli subito, perché non li voglio portare avanti. Cioè, non voglio che al ritorno dobbiamo arrivare ai ferri corti a giocarci la partita anche al ritorno, per cui chiudiamola subito. Poi a me la Sampdoria e poi la Juventus. Per cui adesso è arrivato veramente... adesso è arrivato il momento di dare tutto. Nulla, ragazzi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Un bel commento, un mi piace. Passate a vedere la live reaction se ancora non l'avete vista. E nulla, ragazzi. È andata così. Potevamo aspettarcela, ma per come si era messa sicuramente nessuno si sarebbe aspettato la sconfitta. Amala, amala sempre, ragazzi.